Ieri sera per l'appunto sono venuto qua a prendere un caffè, c'erano tre pattuglie della polizia. Poi cercavano la roba qui con le pile, poliziotti, sono molto impegnati ma ce ne vorrebbero tutti i giorni. Ad insospettire i poliziotti erano state due persone che ferme di fronte all'ingresso del parco Pertini in Viale Giotto tentavano di adescare i passanti. Per questo ieri sera, poco dopo le 21, sono scattati i controlli delle volanti della questura di Arezzo. I due, alla vista degli agenti, hanno immediatamente tentato la fuga, uno verso Via Lorenzetti, l'altro invece verso Piazzagiotto. Gli agenti li hanno inseguiti e fermati. Mentre scappava, uno dei due ha anche tentato di sbarazzarsi di un involucro recuperato dei poliziotti e contenente sette dosi di eroina, pronte per essere cedute. Nel corso della perquisizione personale, poi, gli agenti hanno anche trovato 1.300 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell'attività illecita. È una problematica che esiste, quella dello spaccio, della microcriminalità in questa zona? Direi proprio di sì. E soprattutto lì vicino alla scuola. Quella è una zona poco bella. C'è bisogno di controlli? Sempre, sempre. Anche qui al parco, sempre. Per uno dei due è scattata la denuncia per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e perché irregolare sul territorio nazionale. Droga, denaro ed un telefono cellulare sono stati invece sequestrati. Quartiere di persone anziane. Più ce n'è di controlli e più siamo contenti. E quindi i controlli ben vengano. Grazie. Grazie.